ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi farò vedere un altro alimentatore da banco recentemente vi ho spiegato che non sono un tecnico e che gli alimentatori da banco e ne faccio un utilizzo base oggi vi farò vedere questo della gpd a quell'azienda che vi ho presentato per alcuni prodotti per esempio il supporto per livella che ci permette anche di fare fuori a muro la stazione saldante e multimetro digitale qualche altra cosa che non ricordo anche se la scatola in realtà vuota perché l'alimentatore già sul mio bancone e vi farò vedere quanto sia preciso eventualmente andate a dare un'occhiata anche al video precedente nel quale vi spiego quelle poche cose che conosco sulle varie applicazioni degli alimentatori da banco oggi vi farò vedere più che altro la precisione di questo prodotto come sempre io testo prima i prodotti verifico che funzionino dopo tutti i vari test se mi accorgo che vanno bene allora ve li faccio vedere e questo alimentatore da banco di una precisione incredibile è un alimentatore da 300 watt 10 ampere 30 volt quindi diciamo che per un utilizzo hobbistico va più che bene adesso vi farò vedere appunto il prodotto prima però voglio ricordarvi di andare giù nel primo commento nella descrizione perché troverete un link e un codice di sconto per pagarlo meno di quanto si trova solitamente il prezzo oscilla se ricordo bene attorno ai 70 euro quindi diamo un'occhiata e vediamo come va e allora guardiamo il prodotto vicino questo è l'alimentatore da banco di colore nero ma esiste anche di colore bianco sulla parte frontale abbiamo un pannello con tre display che ci indicano gli ampere i watt e il voltaggio da questa parte possiamo regolare gli ampere possiamo avere una regolazione un pochettino più veloce e da questa parte invece più fine quindi possiamo definire con molta più precisione gli ampere la stessa cosa per quanto riguarda il voltaggio in questo modo saliamo rapidamente e poi da questa parte di regoliamo questo è il tasto di accensione questa invece un uscita usb che ci permette di di ricaricare cellulari eccetera queste sono le uscite c'è anche questa uscita di terra sinceramente la prima volta che lo vedo quindi ci concentreremo solamente su un utilizzo base quello che riguarda l'alimentazione eccetera quindi la accendo premendo il tastino e si accenderanno i tre display in dotazione vengono dati anche dei coccodrilli con l'innesto a banana che vanno inseriti all'interno di questo foro e ovviamente il cavo di alimentazione sulla parte inferiore troviamo quattro piedini non sono in gomma molto morbida e nella parte posteriore oltre ad un etichetta con le caratteristiche tecniche quindi 30 volt 10 ampere troviamo anche una ventola immediatamente sotto l'ingresso del cavo di alimentazione troviamo anche un fusibile che eventualmente si può sostituire togliendo questa copertura e quindi inserirne uno nuovo in caso di necessità e allora siccome non si vedrebbe messo in questo modo mi sono fatto costruire dal mio falegname un supporto molto molto bello ha voluto a 30 mila lire come la gamba di altro giovanni e giacomo allora lo posizionerò in questo modo in modo da poter vedere il pannello vediamo la precisione di questo alimentatore da banco allora andiamo subito al dunque possiamo collegare abbiamo detto i morsetti nella parte frontale questi innesti però hanno già foro all'interno che oltre a funzionare con l'innesto a banana possono essere utilizzati con gli occhielli sia quelli aperti che quelli chiusi e ci permettono di inserire il cavo elettrico all'interno di questo foro allora inseriamo i morsetti rosso sul positivo e il nero sul negativo prendo il mio multimetro che già conoscete sapete che è molto molto preciso e proviamo subito a fare un test per vedere la precisione del voltaggio allora sia il multimetro che l'alimentatore hanno una risoluzione identica quindi abbiamo tre numeri dopo la virgola proviamo ad alzare vi faccio vedere devo alzare un pochettino pure i am per ok come vedete con questo posso salire molto velocemente ma cambio l'inquadratura e allora proposizione qua così si vede tutto per bene come vedete con questa rotella riesco a salire molto velocemente e poi con quest'altra riesco a dare una precisione di fino per avere una precisione più elevata in questo caso siamo a 16.14 e mio multimetro mi indica 16.14 preciso capita a volte che ci sia veramente una differenza ad esempio guardiamo allora regoliamolo per esempio così 16.20 e comita 16.21 ma sono percentuali ridicole praticamente come se non ci fossero impercettibili guardate 21 55 21 53 portiamolo al massimo va un po oltre 30 volte cosa di pochissimo quindi 31 05 31 05 ed è difficile trovare un alimentatore da banco economico da b da hobbista che ci dia una tale precisione adesso facciamo un'altra prova vista la precisione del del voltaggio che ovviamente chiudi così non posso fare per dimostrarvelo guardate 1955 19 e 55 adesso spostato 1956 possibilmente se io sposto leggermente ok in questo modo rimane costante facciamo un'altra prova proviamo ad alimentare il motorino della mia cnc lavora a 24 volte e su questo display vedremo sia gli ampere il voltaggio i watt eccetera quindi aumento un pochettino i am per aumento i volt e man mano il motorino inizia a girare se riduco gli ampere ovviamente si spegne perfetto quindi possiamo utilizzarlo per alimentare un motorino di questo tipo o per assurdo per esempio prima con questo abitatore potremmo utilizzarlo per alimentare i posti abitatori ovviamente però occhio a quello che fate il voltaggio eccetera quindi aumento gli ampere aumento il voltaggio lo portiamo a 19 volte di aumentare ampere e sto alimentando questo abitatore tramite il mio alimentatore da banco quindi vediamo gli ampere vediamo i watt e vediamo il voltaggio che decidiamo noi di dare agli utensili occhio però quando fate queste cose e soprattutto occhio non sbagliare mai polarità questo è solo un esperimento per farvi vedere comunque il funzionamento forse dimenticato di dirvi che all'interno troverete anche un manuale di istruzioni purtroppo è scritto solo in inglese ci sono delle illustrazioni comunque ci aiutano a comprendere dopo quindi in questo caso per esempio ci va a vedere come rimuovere il fusibile per sostituirlo qua ci spiega la differenza tra corrente continua corrente costante quindi in base al carico richiesto allora adesso proviamo invece l'uscita usb che ci permette di caricare per esempio i telefonini ci dice da un uscita fino a 5 volte due ampere quindi vediamo adesso inserendo questo tester ci dice 5.13 volt proviamo a caricare questo telefono e tra l'altro vi recensirò a breve un telefono di quelli rugged ma mostruoso praticamente questo telefono anche il misuratore di distanza funziona con un endoscopio è qualcosa di pauroso allora il telefono è già sotto carica mi da 5 volte e 14 1.35 36 ampere quindi sta caricando il telefonino tramite la presa usb e ovviamente durante la carica la regolazione di queste rotelle non va ad influire sulla carica che viene messa da questa presa usb funziona come quella di un computer è un normale alimentatore per telefonini quindi non andremo a regolare nulla tramite queste rotelle e allora adesso faremo un'altra broma per quanto riguarda questa volta gli ampere anziché i volti proverò sempre ad alimentare il motorino della mia cnc e vedremo il risultato sul display che mi riporta gli ampere e sul display del mio multimetro potrebbe esserci qualche piccola differenza ovviamente e allora lo avvio al minimo mi dà su per giù lo stesso risultato aumentiamo siamo praticamente molto molto allineati diciamo che la differenza davvero irrisoria e adesso vi faccio vedere anche la regolazione del voltaggio in modo fine quindi con la seconda rotella la porto a 24 come vedete riuscirei a regolarlo però mi viene un po difficile quindi con questo riesco sicuramente a regolarlo molto meglio e adesso abbiamo 24 volte anche in questo caso l'allineamento si avvicina ok e allora ragazzi cosa dire quindi di questo alimentatore da banco abbiamo visto che davvero molto molto preciso lo scopo del video di oggi era quello di verificare la sua precisione farvelo conoscere in modo che se eventualmente volete comprarlo sapete che state acquistando un alimentatore preciso sia per quanto riguarda volte per quanto riguarda gli ampere di conseguenza per quanto riguarda i watt quindi un alimentatore che funziona bene finora tutte le cose che ho provato di questo marchio non mi hanno deluso funzionano bene quindi mi sono sentito di farvelo conoscere parlarvene perché ho potuto appurare che è un alimentatore che funziona bene vi ho detto che non sono un tecnico e quindi non posso farmi una recensione molto più approfondita ma per un utilizzo hobbistico perché ha bisogno come nel caso di una cnc alimentare il motorino alimentare qualche altra cosa caricare alcune batterie possibilmente al piombo è una cosa più sicura e allora saprete che in quel caso avrete un prodotto che funziona bene vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione e se mi riesce cercherò di farmi dare un codice di sconto per insomma pagarlo di meno del suo prezzo detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video sperando che vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace al video cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche ci vediamo ai prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto grazie a tutti